ultimo è tornato sulle scene musicali con 22 settembre il nuovo singolo seguito dal video disponibile su youtube con la pubblicazione del suo ultimo lavoro l'artista ha inaugurato la ultimo records etichetta discografica indipendente che seguirà la produzione dei prossimi lavori del cantante il cantautore tornerà a suonare dal vivo a partire dal 4 giugno 2021 il tour che si concluderà con un concerto evento al circo massimo conta già oltre 500 mila biglietti venduti ultimo sarà il più giovane artista italiano di sempre ad esibersi negli stadi